Musso Meli Casteldaccia 2 a 0 Mister Aprile, l'allevatore del Musso Meli Musso Meli Casteldaccia 2 a 0 era quello che volevamo, ci interessava oggi soprattutto per la società e per la gente, anche per noi stessi portare a casa questi primi tre punti perché nove giornate senza vincere è veramente dura anche dal punto di vista mentale, venire qui, allenarsi non vincere mai, quindi era una situazione brutta abbiamo lasciato per quel poco che può contare l'ultimo posto, non siamo più ultimi ma siamo penultimi però ci prendiamo questa bella vittoria facci i complimenti finalmente ai ragazzi perché oggi hanno dato tutto e più di quello che avevano è stata una vittoria importantissima A chi dedica questa vittoria? La prima vittoria la dedico veramente Ovviamente la dedico alla società perché sono delle persone di altra categoria e anche al pubblico che devo dire che non ci ha mai avrebbero potuto contestare il primo me e tutti gli altri a seguire in queste otto giornate, invece ci sono stati sempre molto vicini e poi ovviamente lo dedico anche a mia moglie soprattutto che è a casa e soffre la mia rabbia durante la settimana Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!